Signori, perché insomma i cambi, eh, sapete benissimo chi è che segue un pochettino i gruppi, i gruppi folkloristici romagnoli, siamo tantissimi e un cambio dopo l'altro ci vuole sempre quel minutino, un minutino in più per potersi cambiare di abito. Eccoli qua, pronti, prontissimi la nostra squadra degli Sugar Land, la Rimini Dance Company con i grandi classici. La Rimini Dance Company 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 Grazie!